Siamo arrivati quasi alla fine di questi due giorni di tamponi, di test rapidi e antigenici nelle scuole di Biene e di Soci, sia scuole elementari che scuole medie, lo ricordo, sia per gli studenti che per tutti gli insegnanti e il personale delle scuole. Peraltro oggi abbiamo anche invitato a venire a fare il tampone anche i ragazzi, gli studenti sempre di elementari e medie, residenti nel nostro comune ma che frequentano scuole di altre comuni che non hanno aderito al progetto, ci sembrava giusto anche a loro dargli questo servizio. L'adesione è stata davvero importante, siamo intorno al 90% di adesione, confermato quindi il dato di ieri, mancano ormai poche ore, al momento è stata riscontrata un'unica positività, quindi siamo davvero molto contenti, davvero un grande adesione, grande risultato, il tutto grazie alla partecipazione delle famiglie, quindi grazie di cuore a tutti voi, un grande esempio di senso civico e di responsabilità, ma un grazie enorme a tutti i volontari che, come al solito vedete dietro le mie spalle, sia medici che infermieri, tutti i misericordi in Croce Rossa, una grande comunità si vede da queste cose, quindi di nuovo grazie a tutti e speriamo che non ci siano altri positivi e quindi un buon rientro a scuola in tutta sicurezza.